amici buongiorno mi trovo a padova sono in piazza degli eremitani e sto per visitare questa chiesa stupenda e poi mi farò un giro per la città perché qui ci sono mostre di gauguin ligabu e altro padova una città meravigliosa bellissima elegante insomma veramente un posto un posto da visitare e dove passare qualche giorno quindi la mia vista inizierà da qui io vi saluto questo questa struttura è stata in parte distrutta dalla guerra e quindi approfitto di questo spunto per dire che la guerra fa veramente schifo baci